Il vero successo è quello degli appassionati di pallovare del capoluogo e del suo Interland, che in 2500 hanno assistito al primo storico derby tra l'Aquila e la Gran Sasso Rugby. Numeri da capogiro per l'eccellenza, massima espressione del rugby nazionale, figuriamoci per la Serie A, dove militano Nero Verdi e Grigio Rossi. Al termine della gara il tabellino segna 26 a 20 per l'Aquila, che si conferma leader del campionato e pretendente per il salto di categoria. Per la Gran Sasso grande prova, sia sotto il profilo tecnico-tattico che di orgoglio. Passando alla cronaca, dopo i primi due giri di orologio i Nero Verdi si portano avanti con un calcio piazzato di Filippo Di Marco. La giovane apertura aquilana, non preciso al piede, sbaglia un piazzato 5 minuti più tardi. È al tredicesimo che l'Aquila segna la prima delle sue tre mete. La terza linea Dario Bascia buca la difesa avversaria e viene fermato a pochi centimetri dalla linea di meta. Ne nasce un capovolgimento sull'autoposto che porta in meta Francesco Giorgini. La gara è equilibrata e corretta, nessun cartellino giallo fischiato negli 80 minuti. E al venticinquesimo è l'apertura della Gran Sasso Riccardo Lorenzetti a affintare a 5 metri e schiacciare sotto i pali. Tre minuti più tardi Di Marco, su calcio di punizione, colpisce il palo. Niccolò Speranza raccoglie il pallone e schiaccia in meta, ma l'arbitro annulla. Dalla mischia che ne scaturisce, il pack nero-verde spinge e il flanker Carlo Cerasoli marca la terza mezza dei padroni di casa. Cinque minuti dopo è ancora Giorgini, dopo una veloce azione palla alla mano, che porta sull'allungo più importante nero-verdi, 23 a 10. Il primo tempo però termina con la meta della Gran Sasso, che si impone in mischia aperta, schiaccia oltre la linea con Domenico Guerriero e va negli spogliatoi sotto al break, 23 a 17. Nella ripresa il gioco è frammentato. L'Aquila soffre gli avanti grigiorossi, ma migliora nelle tush. Non riesce tuttavia a concretizzare i tanti minuti passati nella 22 avversaria. Il punteggio si sblocca solo a 4 minuti dalla fine, grazie ad un piazzato centrato da Gianmarco Cialente, entrato nella ripresa al posto di Di Marco. Gli risponde al piede l'estremo sudafricano Jess Dutua, due minuti più tardi, per il 26-20 finale, che vale il punto di bonus difensivo per la Gran Sasso Regmi.